A quasi 20 anni dalla strage di Beslan, il comune di Pesaro e quello di Gradara rafforzano il loro rapporto di amicizia e cooperazione internazionale con la città dell'Ossetia del Nord. In particolare con le madri di Beslan, associazione che mantiene vivo a livello internazionale il ricordo del massacro di settembre 2004 nella città della Repubblica Kaukasica della Federazione Russa. Allora 330 persone furono ammazzate dall'assalto di terroristi che chiedevano il ritiro delle truppe russe dalla Cecenia. Mil ostaggi sequestrati per tre giorni, un terzo dei quali uccisi. Fra questi ben 186 bambini. Azzamas Misikov era fra i bambini superstiti di allora e oggi ha fatto tappa nel comune di Pesaro assieme al sindaco di Beslan, Kariton Tatrov, per ringraziare città come Pesaro e Gradara che lottano in nome della pace e contribuiscono a tenere viva la memoria di una pagina di storia generissima e poco conosciuta. In quest'anno 2024 l'abbiamo ribadito più volte in varie occasioni già dal Natale e dall'inaugurazione di dicembre sarà nella chiave della pace. Credo che in questo momento storico sia un obbligo, una responsabilità condivisa non solo da parte degli amministratori ma anche del tessuto sociale della città prendere una posizione sulle tematiche della pace. Continua oggi un rapporto iniziato nello scorso anno scolastico con l'associazione Madre di Beslan. Avevo avuto modo di incontrare l'associazione in una preziosa occasione di confronto e di conoscenza con l'Istituto Agrario Cecchi in cui gli studenti e le studentesse hanno potuto conoscere la storia di chi è sopravvissuto alla strage di Beslan. Sono già passati vent'anni e una storia che ancora si conosce poco. Attraverso questo rapporto che andrà potenziato nei prossimi mesi sicuramente si troveranno nuove formule di incontro e di conoscenza perché come sempre la memoria aiuta a recuperare e a superare alcune criticità che il nostro tempo contemporaneo ci impone e che sia anche da stimolo per le nuove generazioni e i docenti per approfondire un lato della nostra storia contemporanea che è poco conosciuto ma che merita di riavere voce. Nell'occasione è stato anche siglato un protocollo di amicizia e cooperazione fra le città di Gradara e Beslan anche grazie all'azione di Mauro Murgia, ambasciatore in Italia per la Repubblica dell'Ossetia del Sud. Gradara crede fortemente nella necessità di rafforzare e di continuare in questo percorso intrapreso dalla nostra amministrazione ormai nel 2016 perché dal 2016 abbiamo più che raddoppiato i rapporti di amicizia che ha il comune di Gradara. Quindi il primo gemellaggio storico al città di Mugestur ma ha continuato con un gemellaggio con San Vicente in Istria, una Murat Pasha in Turchia e da lì ci sono tantissimi altri rapporti di amicizia e collaborazione come questo con Beslan. Analogamente ne è stato fatto uno con l'Ossetia del Sud e quindi noi crediamo fortemente che il concetto di confine nazionale a cui siamo abituati negli ultimi anni ormai ha perso significato, non ha più il valore che poteva avere eventualmente benché con qualche forzatura negli anni precedenti. Ora come ora è quanto mai necessario andare oltre, andare al di là dell'ostacolo e cercare appunto di fare un unico spirito di fratellanza tra i popoli e di amore tra le nazioni. Come insegnamento a che cosa? A cercare di eliminare per sempre, una volta per tutte, la guerra come strumento di risoluzione internazionale dei conflitti. Gradara punta molto su questo, cerchiamo da tanto di farlo e con Beslan abbiamo trovato appunto una giusta sintonia nel lavorare per ottenere la pace.